Buongiorno a tutti, vi presento i tre webinars che faremo con l'Ecom Institute. Si tratta di tre webinar che sono collegati tra di loro e dovrebbe aiutare i clinici a interpretare un pochino meglio la letteratura scientifica, cosa che non è proprio semplicissima. Può anche aiutare a chi, possono anche servire a chi ha intenzione di fare della ricerca clinica o di iniziare, quindi giusto per chiarire un po' le idee. Ed è diviso in tre seminar. Il primo webinar si occupa di fare un'analisi della letteratura primaria, che sono gli studi clinici in pratica. Allora ci occuperemo delle varie tipologie di studio, di quale studio va bene per rispondere a una certa domanda e di alcune altre informazioni collegate a questo. Quindi questo vale più per chi vuol fare della ricerca e vuole interpretare questo tipo di studi. Per i clinici c'è un'altra tipologia di studio che sono le revisioni sistematiche. Nelle revisioni sistematiche, che è una ricerca secondaria perché si occupa di rianalizzare dati che sono stati già presentati, queste revisioni sistematiche contengono una massa di informazioni che possono aiutare appunto i clinici a prendere delle migliori decisioni cliniche. Però bisogna capire anche lì come interpretarle, come vanno fatte, eccetera, eccetera. Quindi quello sarà l'argomento del secondo webinar. Il terzo webinar invece è un po' più pratico, nel senso che prenderemo una domanda, una domanda clinica, la domanda clinica sarà se serve dare, fare un antibiotico profilassi all'inserimento implantale. Quindi cominciamo con un problema clinico e lo andiamo a risolvere facendo prima uno, analizzando prima uno studio randomizzato. E poi dopo passeremo a analizzare una revisione sistematica sullo stesso argomento, in modo da capire un po' come leggere e interpretare sia uno che l'altro, ed arrivare a delle conclusioni che siano basate sull'evidenza scientifica. Per cui vi aspetto e ci sarà anche una parte dedicata appunto alle domande, se per caso qualcosa non fosse chiaro ovviamente di questo ne parleremo. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Grazie.